questa cover in cui insomma ho voluto aprire la serata come secondo brano io vi canterei, anzi vi canto una canzone che fa parte della compilation Shalla e che fa parte del mio disco è forse l'inedito che è più, diciamo così, azzeccato o a cui comunque sono più affezionata l'ho fatto tante volte, l'ho fatto al pomeridiano e al serale e ve lo dedico perché insomma mi piace tanto, mi piace tantissimo è Wise Girl però mi dovete aiutare un po', allora vi voglio vedere un po' partecipare iscriviti al canale 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 Sì, sì, sì Grazie. 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 Grazie.